La meglio Pandev che far viaggiare, buono questa volta, c'è spazio per Scaloni, c'è Scaloni a destra, riceve, carica il destro Scaloni, la deviazione, il palo! Il palo colpito dalla Lazio. La Lazio di conquista del pallone, 5 minuti anzi 7 alla fine, Pandev, limite dell'area, carica il destro Firmani, il tiro di Firmani, la traversa e poi... Machiwa, area di rigore, difende bene il pallone Machiwa, ci prova, il cross al centro, Firmani, il gol! Il gol di Fabio Firmani al novantesimo minuto di gioco! Fabio Firmani se ne va sotto la curva! Fabio Firmani se ne va sotto la curva! Fabio Firmani se ne va sotto la curva! e va ad abbracciare, e va ad abbracciare lo stemma di Gabriele! Fabio Firmani al novantesimo! Va sotto la curva e va ad abbracciare, va ad abbracciare la curva nord, va ad abbracciare l'immagine di Gabriele per un gol fondamentale!